A Yavre, fine del primo tempo, Yavre batte d'Arzo 2-0. Le squadre si prestano ad iniziare il secondo tempo. Qui abbiamo con noi l'allenatore dello Yavre, Valentini, al quale chiediamo un giudizio, una sintesi sul primo tempo. Dovete innanzitutto documentarvi meglio perché non sono l'allenatore. C'è il mister che è andato adesso in panchina. È una cosa ben diversa. Io sono solo dirigente. Adesso vinciamo 2-0 per tornare al risultato. Speriamo di portarlo a termine. Per noi è un risultato che assolutamente dobbiamo tentare di portare a termine. Perché vincendo con questa partita ci mettiamo un pochettino tranquilli. Non dico salvi, ma un po' tranquilli. Sperando di portare a termine il risultato utile. Non solo il pareggio, dovrebbe vincere. Però non so, perché adesso abbiamo sostituito il centroavanti. Speriamo bene. Un giudizio sulle sue squadre. Come si è comportata nel primo tempo? Ma fino adesso siamo andati discretamente bene. Abbiamo fatto un gol un po' fortunoso, però ormai l'abbiamo fatto. Un giudizio flash sul Darzo. Il Darzo è sempre una squadra che gioca un buonissimo calcio. Direi un calcio molto tecnico, superiore al nostro. Hanno dei giocatori un po' giovani e pertanto sono leggermente inesperti. Grazie Valentini e auguri. Grazie, arrivederci. Un saluto per te. Ciao.